Allora, ciao Yves, intanto come stai e come sono andate le vacanze? Sembra un po' una domanda banale, però insomma iniziamo da qua. No, sono andati bene, sto bene, ho recuperato del fortuno, sto bene e ho voglia di divertirmi. Hai provato a divertirti anche ieri, ti sei divertito credo, anche nell'amichevole dell'altro ieri, contro il tutto cuoio, come è stato questo rientro in campo? Quando sei entrato hai di fatto rotto gli equilibri, perché da quando sei entrato te il Parma ha fatto subito due gol. No, avevo detto quando entro mi diverto, faccio divertire, volevo solo fare il dribbling e il tacco, poi è arrivato il gol e ho sbagliato il primo terzato e dovevo calciare, però poi è arrivato il rigore e ho fatto il gol, va bene, ci siamo. A proposito di dribbling e di tacco, nessuno ti ha detto poi che magari forse è meglio tirare un dribbling prima piuttosto che provare? Sì, sì, me l'hanno detto tutti, il primo mese e gli altri tutti, però io lo sapevo già che lì devo tirare il gol sinistro e poi ho voluto tornare a calciare, poi era troppo tardi, ma ero incassato prima io, prima di loro, quindi lo sapevo. Da questo punto di vista anche tu personalmente senti che stai crescendo, nel senso stai riuscendo a capire che puoi divertirti anche facendo altro, ovvero magari finalizzando meglio, facendo un passaggio verso il compagno, oppure il dribbling e il gol sono sempre il dribbling e il gol? No, il divertimento ci sono tutti, il dribbling, il tacco, passare la palla e rincorrere gli avversari. Io quando mi diverto, l'ho sempre detto, posso rincorrere gli avversari fino a casa loro, però poi arriverò prima di loro in Porto. Basta che mi diverto, l'ho sempre detto, ci sono tutte dentro queste cose, se mi diverto faccio sempre bene. Allora sta per iniziare il girone di ritorno, il giorno dell'andata è il Parma, è andato molto bene, quali sono gli obiettivi anche tuoi personali per questo girone di ritorno che inizia tra due giorni? Fare sempre bene, dare sempre il massimo, quando entro in campo devo sempre fare delle partitone, non delle partite normali, quando faccio delle partite normali non sono tranquillo e sono sempre incazzato, quindi non devo essere sempre incazzato e devo sempre divertirmi quando entro in campo, dare il massimo per la squadra e quelle che mi dicono lo staff, i mister, e lì devo migliorare sempre e dare sempre continuo a tutte le partite. Yves, ti aspettavi all'inizio dell'anno di arrivare all'inizio del giorno di ritorno già in doppia cifra? Me la festuava, sì, potevo fare anche di più, più gol dei 10, però non mi accontento perché mi diverso, sono felice quest'anno, non so, non sono come gli altri anni passati che ero un'altra persona, quest'anno non so, mi riesce tutto perché sono felice, sono contento di giocare a calcio, quando entro, vengo a fare l'almento, vado a giocare e dico, faccio il lavoro, quello che mi piace più al mondo e quindi quando ci vado, vado a divertirmi, è un piacere andare al campo sempre, quindi potevo fare anche di più, ma rimane che la squadra è il primo fatto che dobbiamo essere, siamo i primi e ho già 10 gol, spero di farne anche gli altri gol nel secondo. All'accento di me la domanda a Nicolò, pensi di poter fare ancora meglio nel giorno di ritorno? Lo penso e lo devo fare, il girone di andata è già passato, quindi non conta per me ancora, inizio da zero e riparto da zero e a zero gol, dico che non ho ancora fatto i gol, quindi è un voglio in più che devo andare a fare altri gol e giocare per la squadra e dare sempre il massimo. Paglia i tuoi. No, prima hai detto che quest'anno ti riesce tutto, a differenza magari di altri anni. Questo è una casualità oppure anche dovuto all'ambiente Parma, a questa squadra, al gruppo, all'allenatore, insomma, da cosa credi che sia cambiato rispetto agli altri anni, forse anche la categoria, non lo so. La categoria è vero, è la prima volta che lo faccio, però è cambiato tante cose. Non so, quando vado in campo sono un'altra persona, insomma, sono tornato a giocare calcio che stavo facendo prima, quando andavo a giocare ero sempre felice e gli ultimi anni quando andavo mi sembrava di essere obbligato a farlo, quindi ho migliorato su questo. Adesso sono felice di giocare calcio, non so, quando entro in campo, dico, sto facendo il lavoro più bello del mondo e quello che mi piace più fare al mondo e lo sto facendo in maniera che sono i tifosi che ti danno pure la gioia di farlo, con la città e lo stadio, e dico, è questo. Non faccio una battuta, la tua risultanza è mettersi la mano sulla fronte e cercare di guardare lontano. Guardando lontano, oltre a, speriamo, tocchiamo ferro, è un Parma in Lega Pro, vedi un Parma con baraglie in Lega Pro, ovvero la tua intenzione, l'hai già detto anche in passato, però sai, non ci piace chiederlo ad ogni occasione, è quella di rimanere qua molti anni. Il mio piacere, sì, Parma è una grande squadra, come l'ho sempre detto, una squadra di Serie A, ma non è che dipende sempre tutto da me, è che io il futuro l'ho sempre lasciato a Dio e lo lascio sempre a Dio, quindi io faccio sempre il mio lavoro, il momento, il presenso e quello che devo fare, poi a giugno vedremo cosa succederà e poi se devo giocare l'Lega Pro o no, però adesso penso solo al presenso e al futuro, lo lascio sempre a Dio. Questa è l'ultima domanda, portare il 10 sulle spalle è una responsabilità particolare? Non lo so, sì, è una responsabilità, io mi piace portare il 10, poi sul campo non senti più il numero, non sai più il numero che hai portato, l'importante è quello che dai ai compagni e ai tifosi, cerco sempre di aiutare i compagni, di cercare di fare quello che mi chiedono di fare, quello che hanno bisogno, quindi il 10 mi piace, però non so se è la responsabilità o no. Anche se ultimamente più che il 10 facevi il 9, nel senso che devi giocare la prima punta, visto anche tutta questa scelta di infortuni nel reparto avanzato. Sì, è uguale, per dire che è uguale, il numero lo valorizza il giocatore, puoi portare pure il numero, non so che numero, però dipende da cosa che fai. Il 20 c'è lì su. Il 20 c'è in allenamento, però mi piace il 10, se non c'è, va bene, l'importante è quello che faccio in campo. Senti, poi hai recuperato completamente dall'infortunio, era stato più che altro un discorso precauzionale per non andare a fare ulteriori danni, fisici, diciamo, no, visto che hai risaltato l'ultima partita di campionato prima delle vacanze. Sì, me l'ha detto il mister, io avevo la voglia di giocare, ho detto che vuole giocare, ma non ci vogliamo rischiare, perché lì è pericoloso. Io avevo già giocato, quindi mi hanno fatto riposare e l'ho recuperato veloce, quindi ha tutto merito loro. A proposito di divertimento, tu quella partita l'hai guardata da fuori, per Melandri, credo che con quel secondo gol si è divertito. Nella festa c'è entrato a piedi pari. Sì, avevo un po' paura perché diciamo che abbiamo perso, che non voglio... Quest'anno perdiamo un partito, quindi... Era come ero in campo, giocavo pure dall'alto, quando ha fatto il gol ho urlato come è morto, quindi anche se faccio gol non mi urlo così come quando ha fatto il gol, perché era una sorpresa, pensavo che ha perso la partita, e grazie a lui che non abbiamo perso una partita ancora. Grazie. Grazie.